Da venerdì 13 gennaio saranno a disposizione per i clochardai senza tetto che vivono nel territorio aretino 20 posti letto in più rispetto a quelli attuali. A Palazzo Fossombroni in piazza San Domenico infatti troverà spazio il nuovo centro di accoglienza dedicato a essenza fissa dimora. Un servizio che abbiamo deciso come amministrazione comunale di offrire in maniera diretta cioè di mettere i nostri immobili a disposizione di farci un investimento di partecipare a un bando regionale quindi è stato un lavoro lungo perché ritenevamo che nonostante il volontariato avesse fatto tutto questo per molti anni sostanzialmente in solitudine fosse obbligo dovere e diritto dell'amministrazione essere in prima linea in questo che è un segno di civiltà. Quindi da domani e per tutti gli anni a venire in maniera precisa senza più incertezze la città di Arezzo si candida ad essere una città che nel momento in cui ci sono temperature così rigide è in grado di accogliere le persone che non hanno trovato una loro sistemazione. Ovviamente con un raccordo molto stretto con la questura con un raccordo molto stretto con tutti quelli che sono i soggetti di controllo del territorio non è un nascondiglio siamo ovviamente certi di questo. Questo è un luogo dove chi ha bisogno trova caldo in un momento in cui le temperature sono rigide ed è un luogo che nasce nei luoghi dell'amministrazione comunale. Sono dei luoghi anche adeguati ad ospitare donne quindi in maniera come dire non più promiscua ma con possibilità di separatezza rispetto anche alle utenze. C'è posto per alcuni animali qualora dovesse esserci la condizione della necessità ovviamente nell'equilibrio delle proposte e nell'equilibrio delle presenze. Il servizio invernale di accoglienza notturna per i senza fissa dimora sarà gestito dalla Caritas di Cesana attraverso i propri operatori e volontari. Da qui l'appello a farsi avanti a tutti coloro che sono interessati a svolgere un'attività di volontariato a favore dell'accoglienza notturna.